Vedi che l'ha fatta bene lui Siamo su senso Pagalo! Nel video di oggi finalmente vedrete finita la scenografia che abbiamo realizzato la nostra prima scenografia per una web series intitolata Fuori dalla finestra e nello stesso video vedrete appunto l'inizio del backstage di questa serie perché è una serie che stiamo portando avanti non tutte in una volta ma a distanza di qualche mese escono le varie puntate perché si sviluppa via via qui inizia il backstage della prima puntata che ci accompagnerà per un po' di tempo ovviamente intervallato da altre cose perché magari nel mentre faremo appunto altre cose quindi ogni tanto uscirà qualche video riguardante altre cose probabilmente anche riguardante il nostro film stesso quindi magari ogni tanto tra una cosa e l'altra porteremo avanti più storie guardate che sono brave queste ragazze guardate che sono brave è arrivato il nostro elettricista di fiducia che ci fa le lampadine la conversione a led vediamo se funzionerà o se prenderà a fuoco e sarà un problema funziona non funziona stacca tutte cose là ci sono 200 prese questo è l'elettricista che ce l'ha messa solo una aaaaaaah ora zi che duma ma perché pappadea che? pappadia qual è il video? nel video pappadia a beh perché l'iPhone si inizia ad allestire si vedono tutte le minchiate che ci sono in questa stanza si vedono le minchiate che ci sono abbiamo fatto un nuovo acquisto siamo andati al brigo e abbiamo acquistato lei picchia sotto il rosto che boh ho portato una cosa per te guarda spettacolo guarda che c'è qua ma che è? l'italiano spettacolo la bibbia a due giudica tu no questo qua mi puoi fare le fotocopie ah il giudica la sentenza lo voglio lo voglio lo voglio giubba pure io criniera del leone a giubba figlio questa è un giubba ah si ti faccio la giubba no veramente quanto vuoi per quel libro? 50 euro 60 euro vuoi m***a l'ho pagato Alfredo ma se mi hanno messo per lo scopino che cosa cerchi? l'acqua l'acqua aspetta che piove no vieni che ti stanno lavorando ancora sì gli ho detto mettili normali i libri l'urlo di munch che è l'urlo di munch l'hai visto di presenza tu è uno che grida in continuazione ma c'è pure l'audio? nell'urlo di munch sì c'è l'audio pure sì sì sotto fondo ma finiremmo mai questa stanza? sì sì come la finestra che era finita ma indovina indovina chi Marco hai lasciato l'acqua aperta? Marco sei un co... io non ho fatto l'acqua Marco dove l'hai lasciata? hai visto l'acqua? sei un co... stiamo finendo pure i pannelli guardate guardate Dennis supervisiona Ruben è stato eccezionale funziona Ruben Ruben è funzionale a posto sei stato approvato giocato giocato divertite ok dammi quello è quello da troppo è trovata dovrebbe essere qua invece mi pare di sì oh per il film segniamocelo e ci vogliono un paio di listelle più pesanti per attaccare tutti i faretti qua sopra a girare ragazzi abbiamo fatto una fotografia che è in quel modo proprio in quella maniera ora le dobbiamo un po' potenziare ah ma quella non ho toccato la lente di Fresnel aspetta cos'è cosa è la lente di Fresnel? oh god queste guardate vedi così diventa più spot così si allarga di più noi la vogliamo leggermente più spot così ma se siete dei porci io non ho mangiato quindi siete dei porci in questa cosa a me vedi io ho sempre detto che i set sono i set dobbiamo comprare un incensiale Rosa che ne pensi dai è esaurita oggi comunque un po' si deve rinforzare la luce con la luce di scena cosa a me a me a me a me a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.